Siamo tutti benvenuti in questo nuovo video, lo farò uscire dopo l'asminus, infatti non so se nemmeno se lo monterò, vediamo un po'. Allora, praticamente sospenderò momentaneamente i video su SarasMR, il mio secondo canale, perché praticamente stiamo io e il mio ragazzo rifacendo la mia stanza e abbiamo pensato di fare dei video, però purtroppo i video sono molto lunghi, quindi ci sarebbe da montare tantissimo e il problema è appunto che secondo noi non rendono abbastanza bene, poi come memoria è un problema poi appunto montarli e nel contempo fare altri video che non siano solo della stanza. Quindi abbiamo pensato di fare, oltre alle programmazioni standard che abbiamo nei nostri canali, che nel mio caso di Red Princess sono sempre il martedì e il giovedì alle 9 e mezza solitamente, e invece in SarasMR non è sabato la domenica, adesso ovviamente uscirà un ultimo video, che sarà domani che non è ASMR, ma semplicemente è su una nuova rubrica che volevo iniziare, che poi porterò comunque avanti, magari dopo che finiremo tutto su... non so piegarvi che cos'è l'ASMR, però i video ASMR per ora li interrompo, perché appunto smontando la stanza e tutto non riuscirei più a farli, perché ci sarebbe troppo fracasso visto che dobbiamo rapanare, dipingere, segare... comunque praticamente il... diciamo che l'asso innesso di questo... di questa decisione di cambiare la stanza è che vogliamo togliere il soppalco e farlo diventare un letto normale, anche perché dovrei dipingere tutta la stanza, quindi un lavoro molto molto lungo. Abbiamo già iniziato la scorsa settimana, però abbiamo fatto, diciamo, le cose basilari, cioè togliere le mensole, abbiamo pulito il muro che c'è qua vicino, abbiamo pulito, cioè abbiamo pulito un po' la stanza, diciamo, abbiamo un po' smontata a livello di mensole, queste cose qua, poi nulla di che, infatti c'è tipo quasi ammazzata di qua con le mensole, per essere mi ha fatto grandi cose, cioè, anche se comunque è stato pesante. Quindi, allora, domani vedrete uscire nel mio canale, appunto, ASMR, un video mio, dove ovviamente non sarà in ASMR, ma sarà, vi lascio sotto poi il canale ASMR, lo so, sempre sotto, nella descrizione, ho trovato il canale, potete vedere l'omano sarà in ASMR, sarò io che parlerò di che cos'è l'ASMR, delle basi dell'ASMR, poi quella rubrica la porterò avanti. Ripeto, sia la rubrica che l'ASMR li sospenderò forse, se non riesco, è tutto potetico ovviamente, perché appunto pensavamo di fare una cosa molto più bella. Oltre alla normale programmazione che abbiamo, appunto, di martedì e giovedì dei video, fare durante il periodo in cui, appunto, faremo la ristorazione della stanza, fare delle live, ovvero metterò io un telefonino in un lato della stanza, il mio ragazzo in un lato della stanza, quindi due angolazioni diverse, e metterci in live mentre facciamo tutte queste cose belle qua. Ovviamente, se non presteremo tanto attenzione a voi, non sarà perché non... no, vi odiamo, cercheremo comunque di essere simpatici mentre facciamo le cose, la live andrà avanti per vario tempo, così recuperiamo delle ore comunque che perderemmo, perché a volte magari, con tutte le cose da fare, non sempre potremmo far uscire video, o comunque se i video usciranno, avremo comunque una copertura, perché, a meno con le live, speriamo che qualcuno di voi partecipi. Quindi questa è anche una specie di comunicazione per dirvi che faremo delle live del restauro, che durerà un bel po' di tempo, quindi faremo queste live da quando iniziamo, ovviamente metteremo prima tutto un po', eh, e iniziamo. Ovviamente non saremo molto fichi quando lavoriamo, perché, ovviamente, dobbiamo lavorare con del... diciamo, un obbligamento consolo, quindi non è che mi metterò i capelli sciolti con il rimel, già adesso non lo metto, mi sono appena svegliata. Quindi capire... capite anche il nostro lavoro. Volevamo comunque rendervi partecipi di questa cosa. Ovviamente non ho mai fatto un room tour della mia stanza, però più o meno capirete com'è fatta dai video che vi mostreremo, dalle live, perché comunque partiremo dalla mia stanza, che è così come adesso, anche perché la cambio spesso, quindi fare un room tour non era facile. E man mano vi farò vedere come la modifichiamo, quindi speriamo che questa cosa vi possa piacere, perché volevamo fare tanti video da mettere sia nel mio canale che nel mio ragazzo, ma purtroppo è difficile montarli, cioè non avremo proprio tempo materiale per poterlo fare. Il suo ultimo video è durato quasi due ore, cioè non è proprio fisicamente impossibile. Il mio cellulare manco tiene due ore di video per poterlo esercizzare tutto, sarebbe un lavoro mostruoso, non abbiamo proprio il tempo. Mi è caduto pure la chiappasogna perché ho iniziato a staccare le luci a led. Il mio chiappasogna è caduto, quello sarebbe aspettato. Infatti adesso io come lampada uso il ring sotto e sopra ho una lampada che si attacca. E la chiappasogna è attaccata al muro con lo scotch e si è staccato. Vabbè, lo toglierò, lo metterò adesso per ora, la pancata parte. Comunque spero che partecipate alle live, non so quanto ci saranno, quando, non lo so, dipende quando il mio ragazzo ci troviamo, ma ovviamente ci saranno dalla prossima settimana perché adesso oggi è domenica, quindi penso che iniziare un po' io lunedì, martedì, tutta la prossima settimana. Ma a mano che faremo le ore attaccheremo le live, quando ovviamente poi passeremo le pulizie, queste cose, la staccheremo ovviamente la live. Ovviamente per i primi minuti vi salutiamo, vi invitiamo nelle live e tutto, poi se magari non vi caghiamo comunque durante tutto quello che facciamo, comunque uno dei due, avrete due live, quindi potete partecipare sia alla mia che a quella del mio ragazzo contemporaneamente. Cioè nel senso, conto veramente è un po' difficile, però potete vedere un po' un po' tutte e due le live, dopo le angolazioni, e comunque le live rimarranno salvate, quindi potete rivederle quando vorrete. Ovviamente non so quanto tempo, tutte le ranno, vi parleremo da lontano, quindi se qualcuno scriverà dei messaggi, non sempre riusciremo a vederli, però comunque speriamo che la cosa vi possa piacere. Io vi saluto, vi auguro un augurato domenica a tutti, e adesso, domenica sì, vuol dire che il mio video è già uscito, se oggi è domenica, no, uscirà alle due, quindi il video ASMR uscirà alle due, pensavo che oggi fosse sabato, se non è rinconiolita. Oggi le due uscirà il mio video ASMR, che non è ASMR, ma è una rubrica, quindi l'ultimo video che vedrete sarà quello di oggi, molto probabilmente, e poi, quando potrò, pubblicherò gli altri ASMR. Ovviamente ho accettato le varie richieste che mi avete fatto, cercherò appunto per quello, non ha senso fare un ASMR fatto a cazzo, e poi farvelo vedere, quindi questo video adesso lo butterò, detto in maniera brutale, sul mio canale di Red Princess, e niente, sotto sempre in descrizione tutto il mio canale ASMR, alle due ci sarà il video. Io vi saluto e vi auguro una buona giornata. Una buona domenica, ciao!